Appuntamento in corso Italia dalle ore 16 presso il gazebo del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio di domenica 12 settembre, Giuseppe Conte sarà a Savona per sostenere la candidatura al sindaco di Manuel Meles. Conte incontrerà i savonesi in corso Italia dalle ore 16 presso il gazebo del Movimento 5 Stelle. È previsto un intervento alle ore 17.15. L'arrivo del presidente Conte sarà un importante momento di confronto con tutta la cittadinanza. Insieme possiamo rialzare la testa e voltare finalmente pagina di Chiara Manuel Meles candidato sindaco dell'M5S. Grazie a tutti.